Sono tante le iniziative che l'amministrazione comunale di Pescara ha organizzato per il giorno della memoria Comune di Pescara che vuole onorare questa giornata e lo vuole fare nel migliore dei mondi. Assolutamente sì, è un percorso che abbiamo iniziato già dal 2020 praticamente di ricuscitura di un percorso legato a eventi tragici quali quelli della Shoah ma anche della giornata del ricordo che seguirà questa tre giorni che impegna la città di Pescara in questa attività doverosa da parte nostra. Così come è doveroso da parte dell'amministrazione comunale, da parte del Consiglio comunale lavorare tutti insieme affinché la memoria non vada perduta e il ricordo di ciò che è stato combinato dai nostri avi in qualche modo sia sempre molto presente per evitare che torni a ripetersi anche se purtroppo proprio in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, in diverse parti del mondo assistiamo a attività che con il genere umano hanno poco a che fare. Ci sarà anche quest'anno la condivisione di questa giornata con le scuole, con i ragazzi delle scuole del Pescara? La presenza delle scuole è centrale, questa attività non avrebbe senso se fosse esclusivamente collegata all'impegno delle istituzioni, invece noi abbiamo voluto coinvolgere sempre le scuole perché questo insegnamento, questo messaggio, questo rinnovamento culturale non può che passare attraverso le future generazioni. Quindi il rapporto con le scuole è altamente strategico, lo abbiamo fatto negli anni passati, lo facciamo quest'anno, continueremo su questa strada perché riteniamo che sia la strada giusta.